Piazza Cittadella, trasformata in un cantiere entro la fine dell'anno o al massimo all'inizio del 2024, fino alla costruzione del tanto atteso e discusso parcheggio interrato, nell'arco di 18 mesi, 540 giorni per l'esattezza, sempre che durante gli scavi non vengano rinvenuti reperti archeologici, sono le tempistiche ipotizzate per l'avvio e la conclusione della maxiopera di cui si parla da oltre un decennio. Ieri pomeriggio la Giunta Tarasconi ha dato il via libera al nuovo quadro economico-finanziario per la realizzazione del posteggio davanti a Palazzo Farnese. L'esecutivo di Palazzo Mercanti ha alzato il disco verde per l'analisi tecnica redatta dalla società Avalon con l'obiettivo di sciogliere i nodi e costruire il tanto discusso parcheggio. Il documento è atteso domani in commissione e lunedì prossimo in Consiglio Comunale per l'ok definitivo, tempistiche considerate dalle opposizioni troppo strette per poter esaminare con la dovuta calma gli incartamenti legati all'annosa partita, da cui le vibranti polemiche di questi giorni. Come anticipato da Libertà e Telelibertà nei giorni scorsi, la nuova revisione del piano economico-finanziario tra il Comune e la società Piacenza Parcheggi, oggi diventata Global Parking Solution GPS, prevede costi di realizzazione più alti per il futuro parcheggio interrato, una spesa aggiuntiva di quasi 4,7 milioni di euro. E nel frattempo, a partire dal 1 gennaio 2024, un incremento della tariffa nelle strisce blu pari a 28 centesimi all'ora in più. Va ricordato infatti che l'accordo risalente al 2012 comprende la concessione al privato delle opere di progettazione, costruzione e gestione del posteggio pubblico da 250 posti, ma anche l'attuale servizio di conduzione delle aree di sosta a pagamento e rimozione forzata dei veicoli in tutta la città, due questioni amministrative che si intersecano come vasi comunicanti.